Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Allora, come sapete, come sappiamo, è in arrivo venerdì una nuova promo, la famosa Foot Captains, di cui si parlava ormai da un sacco di tempo. Ci saranno vari giocatori interessanti, fra cui anche card boostate di Henderson, Yoris, Ben Yedder, Muniain e altri giocatori coche, diciamo non eccezionali, ma comunque sia card boostate. Quindi card interessanti. Poi circolano voci sull'arrivo o contestuale o la settimana successiva dei Captain Yros, quindi vuol dire card potenziate di alcuni giocatori Yros presenti attualmente nel gioco. Ho letto, non ho nessuna informazione ufficiale, ho letto dai soliti leaker che probabilmente non ci sarà Ginola, ma non è nulla di ufficiale, ok? Prendetela con le pinze sta notizia. Prima di partire ragazzi volevo farvi vedere l'ultima cosa arrivata da FC Maglia.com. Vi lascio poi in descrizione tutte le informazioni, perché mi sono accaparrato la maglietta del... probabilmente la divisa più bella della Serie A. Non sono tifoso del Venezia, ma semplicemente è a tutti gli effetti la maglia secondo me più bella che abbiamo in Serie A. E poi ci sono un paio di giocatori nel Venezia che sono... che ci sono il fantacalcio, per cui bisogna tifare Venezia! Vi ricordo, fcmaglia.com, avete il coupon Lucio per fare ordini e avere il 10% di sconto, ottenere maglie omaggio e soprattutto spedizione gratuita e rapida dall'estero. Fateci un salto. Volevo farvi questo video, oltre che chiaramente informarvi dell'arrivo di questa promo, per parlarvi del discorso Fodder. Allora, state lontani dai Fodder adesso, perché i prezzi sono molto alti, seppur il leggero e il basso rispetto alle ultime 24-48 ore, specialmente per gli overall alti. Semplicemente perché siamo in momento da una settimana, 8 giorni, di assenza di spacchettamenti. Cioè la mancanza di spacchettamenti e l'arrivo di tante SBC anche interessanti, ha portato chiaramente i Fodder ad avere un rialzo costante fino almeno nelle ultime 24 ore. Giovedì ci sono i premi, ma non essendoci promo team nei pacchetti, probabilmente nessuno spacchetterà. Quindi tra venerdì e sabato, con la nuova promo in arrivo, sarà il momento in cui effettivamente la gente tornerà a spacchettare e i Fodder torneranno a prezzi acquistabili. Una cosa interessante potrebbe, e ripeto, potrebbe essere quella di andare a buttarsi sui nuovi Team of the Week in uscita stasera, perché sappiamo che oggi è mercoledì, oggi uscirà il Team of the Week nuovo, magari pre e post premi riuscite a trovare qualche piccola occasione su Team of the Week, e sperare che giovedì sera venga rilasciata il PlayerPix 84+. Non c'è nessuna notizia, nessun leak, nulla. Semplicemente abbiamo visto che nelle ultime settimane, specialmente le ultime due settimane, dopo il rilascio del 85+, triplo bonus, del party bag lunedì e martedì, il giovedì veniva rilasciato un PlayerPix 84+, con il requisito di un Team of the Week, e tutti i TOTV puntualmente passavano dagli attuali 18-20k ai 25-26-27 mila crediti. Potrebbe essere una mossa azzardata, ma che potrebbe portarvi un grosso grosso guadagno. Cali particolari non ne vedo entro venerdì, perché abbiamo comunque sia ancora le sfide attive, il triplo bonus, il party bag eccetera eccetera, quindi secondo me può essere una bet interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto, se volete partecipare a questa bet con me. Vi ricordo che oggi è mercoledì, quindi sarò in live dalle ore 18 alle ore 19 circa, per poi tornare giovedì e venerdì nuovamente alle ore 15 e 30. Ci vediamo su Twitch ragazzi, buona giornata e alla prossima. Ciao!